Ho avuto il piacere di incontrare Lucia Silvestri, la direttrice creativa di Bulgari e di parlare insieme a lei sulla nuova collezione, sulla sua idea di Mediterranea. Partiamo dal presupposto che sono una persona molto curiosa e la curiosità mi porta a scoprire e a interessarmi alle nuove tecnologie. È come se veramente ci fosse una finestra che mi fa entrare in questo mondo misterioso che è il mondo della Gemma. Per me questa esperienza è un'unica ed è un'umichità dell'emocenza e è un'accezionale è un'unica c'è qualcosa che è unico in una blockchain che è un'unica che è un'unica che è un'unica in un'euro che è solo a te e qualcosa che hai dovuto essere orgogliati perché è il tuo cervello e il tuo cervello che è stato fatto. Creating amazement and dreams is the ultimate for a luxury brand like Bvlgari.